io vorrei che sono un debole oggi si gioca a casa da Marileva 1004 a Montevigo, Passo dell'Orso Marileva 1004 fa abbastanza oh mamma lessina ma perché c'è uno sul tetto? siamo alla Malga Panciana 1870 metri bevi Lillo libero sentiero bello rifiuto in che condizioni siamo? ci siamo persi ci siamo persi ci stiamo scollinando vieni qua siamo in cima in monte Vigo ora andiamo giù è l'acchi del marchetto andiamo via ora si parte una bella boccata oggi per corso l'ha scelto l'Alessia fa del lavoro a tornare si stianta poi il sole dovrebbe girare aspettiamo gli impediti maremma sconnessa si ritorna e dà infarto sono preoccupato parecchio siamo arrivati al video felice a a a a a a a a a pranzo con le montagne sui laghi che aspettiamo allora stiamo mangiando come maiali ora voglio vedere come si fa a risalire ora sto da fare la risalita siamo distrutti ritorno a casa vi lascio con queste immagini alla prossima